Come si immaginava alla fine di dicembre, per non perdere i finanziamenti europei, Regione Trenitalia hanno presentato in extremis i nuovi progetti per le tratte TAV, Porto Gruaro Ronchi e Ronchi Trieste. Ovviamente si tratta di progetti che fanno discutere, tagliano in due vari paesi, mettono a rischio numerose abitazioni e portano in generale ad importanti cambiamenti ambientali, in particolare del Carso Triestino con decine di chilometri di gallerie. I comitati no TAV della Regione si sono subito mobilitati con numerose assemblee pubbliche nei paesi colpiti, comunicati e conferenze stampa. Vari esponenti, politici e partiti, nonché sindaci e consiglieri comunali, hanno preso posizione, chi chiedendo un maggior coinvolgimento del territorio e chi criticando i progetti. Il 22 gennaio Trieste si è tenuto il primo incontro tra l'assessore ai trasporti della Regione Riccardi e i sindaci coinvolti, ovviamente la Regione è determinata ad andare avanti, ad essere interessati anche molti paesi però del Friuli, come San Giorgio di Nogare e Porpetto, che verranno letteralmente divisi a metà. Che cosa succederebbe al paese se la TAV venisse realizzata? Ciò che può succedere è ciò che non ce li dicono. Ecco, vengono un pochettino a parlare di questa TAV, ma ho l'impressione che quelli che dovrebbero dirci le cose siano degli imbonitori, più che della gente che ci spiega come stanno le cose. A mio avviso potrebbero farlo con equilibrio, dicendo innanzitutto i vantaggi economici, ma con una certa chiarezza. Ad esempio le cifre che si spenderanno, che appaiono enormi, ma con l'esperienza del passato ho l'impressione che in breve tempo tripliceranno per dire se tutto andrà bene. È sempre successo così. E quindi si aumenterà il debito pubblico per le prossime e future generazioni. Ma pazienza a questo, che ci dicano con chiarezza i vantaggi economici, in particolare per un Friuli, da un momento che siamo da queste parti. E poi soprattutto ci dicono anche, con molta chiarezza, poiché si tratta della gente, anche i costi. Non solo economici, ma umani soprattutto. Ad esempio, case, più di mille soltanto in questa zona, vengono toccate. I terreni, le aziende, spaccate a metà, paesi che rischiano di essere divisi in tre parti. E uno sempio poi che potrebbe durare per decenni. Perché quasi per consolarci qualcuno ha detto, ma state tranquilli, tanto queste cose si fanno per il 2050. Che sarebbe come dire che noi dobbiamo sorbirci un tormentone di questo tipo per decenni. Io sono convinto che possa succedere, perché si tratterà non soltanto di un piccolo passaggio di poche decine di metri, ma si tratterà di cantieri che toccheranno centinaia di metri, a destra e a sinistra, con strade di accesso, con laterali, viadotti, passaggi, cantieri e quant'altro.